Buongiorno Pippo, partiamo dall'anomalia di questa settimana, questo ritiro imposto e poi ritirato su richiesta di squadra e da quello che ho capito anche tu, nel senso che tu comunque sei stato coinvolto nella decisione di andare a chiedere questa cosa alla società. Come va interpretato? Cioè da una parte c'è un'assunzione di responsabilità piena e una società che dice va bene, vi diamo la fiducia, per dall'altra chiaramente vi mettete tutti giocatori, ma anche tu, insomma tu poi ce l'hai anche prima, di fronte a una responsabilità ancora maggiore, no? Sì, sì, intanto ci tengo a specificare che su sei notti siamo stati quattro notti in ritiro, per cui il ritiro non è stato sospeso, cioè il ritiro è stato solo sospeso per due giorni, è continuato perché noi abbiamo dormito lunedì sera, martedì sera in ritiro e ieri sera e stasera dormiremo in ritiro, per cui su sei notti ne abbiamo dormite quattro. Penso che è stata una grande assunzione di responsabilità da parte della squadra, la squadra mi è venuta a chiedere una cosa, è venuta quella di chiedere di andare a casa due giorni, di stare con le proprie famiglie e con i propri figli, penso che sia una richiesta legittima, quando li ho guardati negli occhi ho capito che la partita l'avremmo fatta, sia se fossimo stati in ritiro, sia se fossimo andati a casa due giorni, non sarebbe cambiato nulla, per cui a quel punto ho chiesto alla società che non voleva, di mandarli a casa due giorni, perché quando un allenatore capisce che i ragazzi hanno capito il momento e sanno che partita devono fare, mi sono preso le responsabilità, me le prendo, non c'è nessun problema, io sono sicuro che la squadra farà una grande partita e poi speriamo che il risultato ci dia ragione, perché dopo quello che conta penso che sia solo il campo al di là del ritiro, un giorno in più, un giorno in meno, per cui sono molto tranquillo da questo punto di vista, so con che ho a che fare, per cui mi lascia molto sereno questa, la preoccupazione per la partita, perché per vincerci vorrà una grande gara, ma penso che siamo pronti per farlo. Ecco, è la partita peggiore per giocarsela, non dico ultima spiaggia perché chiaramente ci sono ancora tante partite, però insomma è un momento in cui si vedono gli uomini ancora prima che i giocatori. E questo dovremmo dare dimostrazione ai nostri tifosi e alla società, che siamo uomini, per cui a me mi piacciono molto queste sfide, io sono molto sereno e la mia serenità me la dà il lavoro e il fatto che a maggio il Bologna sarà salvo, se volete scrivetelo, io mi prendo questa responsabilità, indipendentemente dalla partita di domani, io sono sicurissimo di questa società, di questi dirigenti, di questi giocatori, di solito le sfide nella mia carriera in 30 anni di carriera di calcio, 25, le ho quasi tutte vinte, per cui sono molto tranquillo, mancano 24 partite, è chiaro che domani è una partita importante, però io vedo come si lavora in questa società, vedo i dirigenti che ho, il presidente che ho, i tifosi che ho, la squadra che ho, poi spero di trasmettere questa fiducia a tutti, il resto dobbiamo dimostrarlo in campo. Come sta Santander? Santander sta bene, adesso dovrò valutare qualche giocatore che martedì ha giocato, che è un po' più stanco, insomma Poglia ha fatto due partite, Orsolini ha speso tanto, così come Nagy, insomma i quinti, ho qualche dubbio, insomma abbiamo l'allenamento di oggi per cercare di capire quelli che potranno partire, quelli che invece potranno subentrare e darci una mano, perché è una partita importantissima, però vedo che tutti vorrebbero esserci, questo è un bel segnale. Anche Calabresi che ha squalificato mi ha chiesto di venire via e questi sono sintomi di gruppo, di squadra che lasciano, che saranno importanti nell'arco della stagione, secondo me. Hai scelto di farlo giocare Calabresi in Coppa, no? E di non fare prove, perché chiaramente sapevi che non l'avreste avuto a Empoli. Perché tenevi a fare il massimo in Coppa? Perché avete visto la Coppa cosa riserva, per cui come avevo detto per me non ci sono riserve titolari, ho messo i giocatori migliori per quella gara, solamente per questo, insomma in Coppa c'è stato, anche se non basta, però c'è stata una bella dimostrazione di voglia di vincere, abbiamo visto le altre squadre, insomma Torino e Genova come hanno fatto fatica contro squadre di Lega Pro, per cui se non si affronta le parite nel modo giusto e la mentalità con cui la squadra ha giocato quella gara mi è piaciuta, poi è chiaro che dobbiamo dare continuità, però qualcosa c'è, dobbiamo cercare di tirarlo fuori con più continuità, però adesso è arrivato il momento di farlo. Quando dice la società non voleva, avrebbe voluto continuare il ritiro, capito bene? Ma la società quando prende una decisione è chiaro che vuole andare avanti, però davanti a una richiesta della squadra allenatore che si assumono determinate responsabilità, che avrebbe dovuto fare? Se voi fossiate andate alla società cosa faceva? Io ai giocatori gli ho detto di pensarci bene, perché la cosa più semplice sarebbe stata quella di rimanere in ritiro, anche se come ho già detto il ritiro non è stato tolto, perché abbiamo dormito a casa su sei sere, qua due, però penso che questa squadra o io se pensassimo che stare in ritiro tutto l'anno ci fa salvare lo faremo, ma non penso sia la ricetta giusta, la ricetta giusta sia prendersi le responsabilità, far vedere di che pasta siamo fatti, fare gruppo, stare tutti uniti, non cercare per forza un capo espiatorio che in questo momento non serva a nulla, adesso dobbiamo finire bene queste sei partite e poi 30 dicembre tireremo una riga, se io e i miei giocatori ci saremmo meritati in Polonia bene, se no vedremo quello che succederà, ma insomma io conosco solo una ricetta che è quella del campo e quella del lavoro, speriamo che domani ci dia ragione. Ecco quando lei dice il 30 dicembre tireremo una riga significa che comunque ha parlato con la società e ha capito di avere un tempo di fiducia che le è stato accordato oppure lo dice indipendentemente da ogni altro ragionamento? Devo dire che non ho bisogno di parlare con la società, io vedo quello che pensano di me tutti i giorni, vedo quando guardano i miei allenamenti, vedo quello che mi dicono e poi il calcio so com'è fatto, non posso mai stare tranquillo e se adesso parlassi alla mia società di acquisti non mi prenderei le responsabilità che invece devo avere perché questa squadra così com'è deve fare di più. Poi dopo io so che ho un presidente e dirigenti all'altezza e magari poi ci siederemo, parleremo anche perché io avrò anche il quadro più chiaro dei giocatori, dopo tre mesi o quattro che li alleni capisci tante cose in più, però adesso non voglio guardare oltre una partita, io mi voglio guadagnare come lo so che devo guardare i miei giocatori il Bologna ogni giorno perché Bologna è qualcosa di speciale, di unico e io me lo voglio tenere stretto, però dall'altro canto se volete scriverlo e ci facciamo una scommessa, io sono sicuro che a maggio il Bologna sarà salvo che poi è l'obiettivo più importante per poter poi costruire qualcosa di grande, mancano 24 partite, ci sono tutte le possibilità per poter fare bene e anche se domani dobbiamo mandare una bella risposta, questo è fuori il dubbio. Volevo innanzitutto tranquillizzarti sul fatto che non è che qui si dipinge che questo Bologna vale 15 punti in meno, la differenza tra essere salvi e essere dove siamo adesso sono quei 3-4 punti decisivi, quindi non è che ci sia un abisso tra la negatività presunta dei giornali e dove siete voi oggi, è chiaro che è un campionato che balla sul filo anche di questi punti. Ti vorrei chiedere, hai detto che questa squadra ha sempre fatto la partita, quasi sempre, vero, forse Cagliari è stato un atteggiamento sbagliato. A Genova cosa è successo? Perché ecco, forse lì la partita si chiusa già a fine del primo tempo, forse la squadra non l'ha fatta, ecco. Quali sono gli errori che non deve ripetere? No, ma parlare di Genova perché se no io penso che perdere una partita 4-1 tirando quattro angoli e avendono ricevuto uno contro o avendo avuto migliore possesso palla e avendo avuto le stesse occasioni della Sampdoria, la partita è stata fatta, abbiamo fatto delle disattenzioni che ci hanno fatto sì di pensare che la partita non è stata fatta, invece non è stato così. Però tornare indietro, adesso rimangare sulla partita di Genova, io voglio la stessa personalità che abbiamo avuto a Genova perché se tu vai in un campo così e hai più possesso palla di una squadra che gioca molto bene è già un punto che mi piace perché un allenatore deve pretendere questo dai propri giocatori, se l'abbiamo fatto è perché ce l'abbiamo nelle corde, è chiaro che dobbiamo evitare delle disattenzioni che non sono non voglia di fare la partita ma proprio disattenzioni personali che ci sono costate quei gol, basta, per cui l'attenzione domani sarà al massimo e mi auguro di ripetere tecnicamente, di ripetere di aver voglia di giocare perché non sono allenatore che mi piace dire di buttare la palla in avanti solo su Santander e salire perché non sarebbe giusto, dobbiamo cercare di capire i vari momenti la partita, quello che bisogna fare, forse avere tanti giocatori giovani come ripeto spesso in campo può farti pagare questo però anche loro devono crescere in fretta perché hanno dimostrato di essere pronti. Ministero, dal punto di vista tattico che sei che teme di più dell'Empoli di Iachini? L'Empoli di Iachini insomma in queste tre partite ha fatto molto bene, l'ultima partita a Ferrara meritava di vincere, è una squadra in salute però insomma poi Iachini è un mio amico, mi fa piacere anche se mi dispiace per Andrea Azzoli perché è un allenatore che stimo e stava facendo bene però Iachini è insomma è sgamato per la categoria, è un allenatore in gamba e l'Empoli è in un momento buono però insomma a parlare degli altri noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo una grande opportunità insomma avremo tanti tifosi che ci seguiranno e sono contento perché questa squadra ha bisogno anche domani della propria gente per fare qualcosa di importante, poi se non l'avremmo fatto come ho detto l'altra sera ci andremo a prendere i fischi ma sono sicuro che domani la squadra insomma a fine partita uscirà a testa alta avendo fatto una grande partita sperando anche di aver vinto. Ci faccio entrare un po' nello spogliatoio anche senza le parole esatte, lei cosa dice a un giocatore che fa gli errori di Genova? Lo prende da parte, lo scuote, qual è il suo metodo pedagogico? Ma il mio metodo è quello di farglielo vedere, di capire perché l'ha commesso e andare avanti con il lavoro, io penso che questa squadra in questo momento abbia bisogno di fiducia, abbia bisogno che un allenatore si arrabbi quando è il momento giusto e invece abbia una parola in più quando è un momento delicato per cui il lavoro dell'allenatore è anche un lavoro da psicologo, spero di averlo fatto bene però io vedo una squadra che mi segue e questa è la cosa più importante, indipendente da tutto, quando l'allenatore sa che il gruppo è dalla sua parte poi dopo deve andarcelo a giocare con i suoi giocatori cercando di fare il massimo e poi come sempre insomma le parole oggi bisogna dirne poche, domani bisogna fare dei fatti e speriamo arrivi presto alle 15 di domani. E Zemaili dopo la botta al ginocchio come sta? No, no, Zemaili sta bene.